Perfetto Gioca che piazza l'avventura per Eto'o, arriva inizia la tiro, Eto'o la fitta, Eto'o scolisciso, parte il tiro, Vardes, attenzione, Milito! Accelera Maxwell, il crescenario di gore ancora, Maxwell dal fondo, il cross, attenzione, Pedro Rete! Barcellona in vantaggio Ballone a metà strada tra Milito e Pandeve, Milito, Milito! Si è attivolato la balla dell'1-1 Il cross è basso, pallone accacciato da Milito, lo giro, attenzione, Sainz, Rete, Rete, Rete! Il fuori dell'Inter, Sainz! Altissima la ripresa della Barcellona, pallone per Milito, Milito può entrare in area di rigore E' costretto ad allargarsi, arriva rimorchio Michael, pallone per Michael, Rete, 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 Rete! Michael fa impazzire, su zero! Balli in area, colpa in denso, Giulio Censar strepitoso e poi ancora Giulio Censar, mischia pazzesca! Botta, pallone per il 2, in area di rigore, il cross, slider, è finito! Rete, 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 Rete! Rete, Rete, Rete! Rete, 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 Rete! Rete, 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 Rete!